La valle di Lumezzane non era né collina né montagna, quindi non aveva ricchezze. E parliamo degli antenati storici che dicono che l'unica fonte di approvvigionamento e di ricchezza era lavorare il ferro, quindi sfruttare la montagna. La fonderia che io conduco ormai da 40 anni assieme ai miei figli è il primo anello del sistema produttivo. È la mamma di tutte le aziende che a catena vengono fornite dalla fonderia. Tutto ciò che riguarda il metallo, admetalla era chiamata Lumezzane, viene dalla fusione del metallo, in questo caso l'ottone che è una lega di rame e zinco. Quindi noi facciamo i lingotti, 40% 50% di bronzo, l'altro 50% di ottone, con 260 leghe. Frutto di uno studio per trovare l'alchimia delle leghe che rappresentiamo. Mi è stato chiesto, ma cosa vede lei di affascinante? Vedo questo liquido che scende e che a mille gradi si trasforma in lingotti creando materia prima.